Allora, guarda che c'è l'obiettivo, il problema è l'obiettivo, l'obiettivo, l'obiettivo e l'obiettivo, perché se ne vengono 10 africani con 10.000 accogli, fanno più casino, meno di quanto è amplificato, perché se io voglio fare una serata senza amplificazione, la posso fare peggio. Ma se sono in agosto, come strumenti, sapi, torboi, batteria, fanno il stesso corredo, cioè, se sapete che dici che dici che la posso così, non lo voglio fare ne ho amplificazione, se ne ho passi la amplificazione, il stesso corredo, cioè noi non siamo una sala pro, noi siamo 10 che sono andato in terra a sala pro, ma ne andiamo 10 centi, cioè, e siamo tutti 15 anni reali. Come vuoi passare invece con la preparazione? Una ordinanza diversa da questa non riesco a produrla, se loro riescono a produrre un documento che sia legittimo e che possa essere modificativo di questa, sono disponibili da fare. Vede che, ad esempio, a Palermo, il Comune di Palermo, si è arrivato anche alla chiusura dei locali, al sequestro di tutti gli strumenti. Cos'è che in questa ordinanza non è prevista? Perché ho cercato di mitigare un poco quelle che sono le possibili sanzioni.